ospedali fano si amplia ritardi sul programma di pesaro agricoltore di novilara trovato con due chili di marijuana processo a carriera condanna minima per diffamazione assolto per il video baiaflaminia fa discutere il nuovo regolamento sui decibel sport angels all'assalto dei playoff di football americano Buona serata, ben ritrovati Grazie al nostro telegiornale, oggi è giovedì 15 giugno, apriamo questa edizione parlando di edilizia sanitaria con importanti novità che riguardano sia Pesaro che Fano. E allora cominciamo dall'ospedale Santa Croce dove oggi è stato presentato il progetto della nuova palazzina di 4.000 metri quadrati dedicata al pronto soccorso, alla terapia intensiva e alla medicina d'urgenza. Vediamo. Troppe code al pronto soccorso, estenuanti le attese per un intervento. E allora ecco la novità, la nuova palazzina per le emergenze e urgenze, che consentirà all'ospedale Santa Croce di Fano di compiere quel balzo in avanti atteso da tempo. L'edificio di oltre 4.000 metri quadrati offrirà soluzioni innovative per garantire continuità al lavoro del personale medico. Verrà ripristinato anche l'ingresso originario di via Vittorio Veneto, ma a fare la differenza sarà ciò che troverà spazio all'interno della palazzina. Vale a dire, tra le altre cose, il pronto soccorso e diversi posti per l'osservazione breve e per la medicina d'urgenza. La medicina d'urgenza è molto importante perché ci permette di stabilizzare i pazienti, di rimetterli nei reparti ordinari o se necessario, addirittura, se possibile, di mandarli a casa. Insieme alla fase d'emergenza, che sarà dotata di una struttura radiologica specifica, quindi accelerando i tempi diagnostici con tanto di tacche e di esami radiologici tradizionali, avremo sempre in questa palazzina le sale operatorie. Questo è molto importante perché il paziente che arriva al pronto soccorso ha necessità di essere operato immediatamente, non entra nel percorso, chiaramente, delle sale operatorie ordinarie, ma queste quattro sale, di cui una ibrida, che ci permetterà quindi di fare interventi ancora più complicate, a disposizione della rete dell'emergenza. Oltre a questo avremo i posti letto di terapia intensiva, sia per pazienti normali che per isolati, e i posti letto di utic. Naturalmente non bastano le mura, ma servono poi personale da poter mettere insieme, e voi sapete che spezzettare rende inefficiente il sistema, ma in questo modo non lo è, perché viene preso in blocco tutto quello che era relativo all'emergenza e portato in una palazzina nuova, più efficiente, con dei percorsi molto più puliti e più rapidi. E quindi si spera di poter risolvere un po' il problema annoso delle file al pronto soccorso, delle risposte inadeguate per le sale operatorie. E quindi miglioriamo la struttura per rendere più agevole il percorso, non solo per i pazienti, ma anche per i nostri operatori, perché io credo che lavorare in una struttura confortevole, una struttura che possa essere molto più snella e più agile rispetto a quelle che hanno, ci dà un pochino più di sollievo. La palazzina spunterà al posto dell'attuale parcheggio del pronto soccorso, mentre i posti auto si sposteranno nell'area verde adiacente. Tutto pronto, possibilmente, entro il 2026. Beh, una bella risposta, chi parlava di depotenziamento delle strutture sanitarie ospedaliere del nostro territorio, la giunta Acquaroli ha solo un obiettivo, restituire il diritto alla salute ai cittadini marchigiani. Questa ne è la riprova nella terza città delle Marche, che serve due valli, la valle del Metauro e la valle del Cesano, in rapporto con l'ospedale di Pergo, con l'ospedale di Urbino, con il vicino e importante ospedale di Epesoro, con altre strutture che vogliamo potenziare sul territorio. Questo che cosa significa? Un investimento già di 25 milioni di euro per l'ospedale Santa Croce di Fano, che è strategico nella rete, un investimento di 25 milioni di euro, che darà vita ad una nuova palazzina delle emergenze e urgenze, a 1070 metri quadrati, a piano per quattro piani. Poi i riflettori si sposteranno sul blocco B del Santa Croce, in un'ottica di espansione e di rivalutazione dell'ospedale fanese. L'ospedale di Fano deve tornare a tutti gli aspetti un ospedale all'avanguardia, dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, ma anche dal punto di vista strutturale, perché se le strutture non sono adeguate, purtroppo questi ospedali sarebbero stati destinati alla chiusura, così come la giunta precedente aveva sostanzialmente stabilito. Palazzina di Fano, che la Regione Marche ha classificato al secondo posto per importanza fra gli interventi di edilizia ospedaliera, previsti proprio dal piano sanitario. Al primo posto c'è invece il nuovo ospedale da realizzare a muraglia, che fa discutere per alcuni accumuli di ritardi progettuali. Correva il 17 ottobre del 2022 quando, nel municipio di Pesaro, veniva sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale da costruire a muraglia fra le firme della stessa amministrazione di Regione Marche, Asur e Azienda Marche Nord. Sette mesi dopo, i conti non tornano per l'opposizione in Consiglio regionale. Andrea Biancani accusa infatti ritardi e mancate condivisioni su un cambio di destinazione dei servizi attualmente presente a muraglia, che dovranno trovare una nuova sistemazione. A sette mesi da quando l'accordo è stato fatto, si si rende conto che sia per quanto riguarda il nuovo ospedale, sia per quanto riguarda la casa di comunità di Garantara e l'ospedale di comunità di Monbaroccio, si è in ritardo con la presentazione e ad oggi l'azienda sanitaria, in maniera unilaterale, cioè senza coinvolgere l'amministrazione comunale, decide che non saranno più queste le destinazioni dove portare i servizi che vengono spostati da muraglia, ma ha deciso di fare un bando per individuare cinque nuovi edifici da prendere addirittura in affitto. Affitti che per Biancani sono una scelta sbagliata a fronte di diverse proprietà pubbliche inutilizzate da destinare ai servizi da trasferire. Si tratta di servizi importanti come le comunità protette maschili e femminili, le strutture riabilitative e residenziali, lo stesso reparto di psichiatria, il centro di salute mentale, il servizio di assistenza domiciliare, l'RSA Tomasello, tutte realtà che oggi sono, come dire, in concentrate a muraglia, che andrebbero appunto completamente spezzettate, creando veramente un grandissimo disagio, sia per quanto riguarda le famiglie, sia per quanto riguarda le stesse persone che sono attualmente ospitate, ma anche per quanto riguarda il personale medico. Cambi di destinazione, ma anche incertezza sul cronoprogramma del nuovo ospedale. Ricordo che l'impegno che la regione si era presa era quello di iniziare i lavori entro il 2024. Oggi siamo a giugno 2023, ancora non è partito il bando per il progetto. Mi sembra che i tempi che hanno in qualche modo sottoscritto appena sette mesi fa sia evidente che non siano sicuramente realizzabili. Il ritardo, il nuovo ospedale, a rischio ritardo pure la strada che deve condurre alla nuova struttura. Parliamo della circonvalazione di muraglia che dopo la riapertura di strada Carloni d'inizio marzo ha vissuto gli ultimi tre mesi di lavori rallentati e in alcuni casi del tutto fermi. Ora i lavori dovrebbero riprendere vigore a fine giugno, dopo che Società Autostrade, che coordina i lavori, ha deciso di cambiare l'impresa che si occupa del cantiere del completamento di questo tratto meridionale di interquartieri. Si cerca così di dare un'accelerata per rispettare il cronoprogramma che prevede la fine dei lavori nell'autunno 2023. Ed ora ci spostiamo ad Ancona, dove oggi c'è stato il terzo sbarco da inizio del 2023 e di una nave di migranti soccorsi nel Mediterraneo, come da nuovo protocollo d'accoglienza deciso dal governo. Alle 14 è ormeggiata la nave Geo Barents con 38 migranti provenienti per lo più da Marocco e Bangladesh. La prefettura di Ancona sta coordinando le procedure d'accoglienza. Ed ora passiamo alla cronaca. Un agricoltore di 50 anni di Novilara è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione dopo che sono stati trovati due chilogrammi di marijuana all'interno di un capanno agricolo di sua proprietà. La polizia di Pesaro lo stava seguendo da tempo, vedendolo in compagnia di assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Il cinquantenne è stato fermato pochi giorni fa alla stazione di Pesaro mentre si stava dirigendo a Senigallia. Addosso gli hanno trovato 7 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha portato a scoprire ben 2 chili e 300 grammi, la maggior parte confezionati in sacchetti di cellofan. Al tribunale di Pesaro c'è stata proprio questa mattina la sentenza del processo a Umberto Carriera accusato di diffamazione dal dirigente della squadra mobile della polizia di Pesaro, Paolo Badioli. E allora vediamo com'è andata. Esultano Umberto Carriera e Clarissa Rosselli all'uscita del tribunale di Pesaro. Questa mattina il giudice Pier Santelli ha assolto entrambi per i capi di imputazione relativi alla pubblicazione del video, carpito in maniera fraudolenta attraverso il quale i due documentarono l'azione di diversi agenti di polizia all'interno del locale La Grande Bellezza di Monbaroccio il 15 gennaio del 2021. Ovvero il locale gestito da Carriera che il ristoratore decise di tenere aperto in quell'occasione contravvenendo ai DPCM imposti dal governo Conte in piena epoca di limitazione anti-Covid. Il video in questione documentò gli agenti nell'atto di combinare la multa al locale e sospenderlo dall'attività per 5 giorni. Un video che fu pubblicato sui social producendo una pioggia di ingiuri alla polizia e portando il capo della stessa polizia Paolo Badioli e gli stessi sindacati di categoria ad avviare un processo per diffamazione. Reato di diffamazione dal quale oggi è stata assolta Clarissa Rosselli. Diffamazione alla quale è stato invece condannato Umberto Carriera ma con pena di fatto esigua rispetto alle richieste iniziali. 200 euro di multa appena sospesa e risarcimento di 3.000 euro per Badioli e 500 euro per ciascuno dei tre sindacati coinvolti a fronte dei 63.000 euro che erano stati richiesti. L'avvocato difensore di carriera Federico Bertuccioli ha esternato soddisfazione per la sentenza ma farà ricorso in appello contro le condanne a diffamazione. Non solo un nuovo regolamento per il decoro urbano il Comune di Pesaro sta anche predisponendo un piano d'abbassamento dei decibel in alcune zone della Movida cittadina e allora ne abbiamo parlato con alcuni esercenti di Baia Flaminia. Vediamo. Pesaro città della musica ma l'estate sarà più silenziosa. Non solo decoro estetico ma anche acustico. In Baia Flaminia con il nuovo regolamento che forse entrerà in vigore si parlerà infatti anche di decibel da tenere a freno. I commercianti di Baia Flaminia si dividono tra chi si adegua all'ordinanza e chi invece per colpa di questa rischia di perdere incassi e clientela. Sì, come abbiamo sentito anche noi commercianti sta per entrare un nuovo regolamento dei decibel soprattutto nei posti dove ci sono comunque abitazioni e quindi stiamo aspettando naturalmente per capire come muoversi vediamo come sono questi decibel poi in base ai decibel il regolamento come tutti i vari regolamenti che hanno fatto con gli anni che ho visto ci siamo adeguati e chi non si adeguerà dopo ci saranno gli organi fatti apposta che faranno dei controlli. Allora purtroppo questo nuovo regolamento diciamo che va un po' a danneggiare il nostro locale come anche gli locali qui intorno perché noi siamo comunque un locale che diamo la possibilità agli artisti di esibirsi sia ai cantanti che ai musicisti e questo nuovo ordinamento insomma va a danneggiare perché nel momento in cui non possiamo utilizzare un livello di decibel adeguato per fare comunque una festa adesso perché finalmente è iniziata l'estate diciamo che non è un buon risultato sia per noi come locale che per il cliente che viene qui a gustarsi una serata, un aperitivo o quello che sia insomma. Comunque abbiamo tanti artisti che si vengono ad esibire qui dei DJ, degli artisti di strada anche, musicisti ci sono persone che sono affezionati a questo tipo di evento e comunque non vuoi andrebbe sicuramente a danneggiare a toccare il livello economico perché ci sono meno entrate ma anche per noi che siamo ragazzi e vogliamo divertirci adesso non dico che ci dobbiamo avere la musica da discoteca ma neanche un livello basso, basso, basso ecco insomma questo. Purtroppo ultimamente abbiamo riscontrato delle problematiche, delle discussioni perché dicevano che tenevamo i decibel troppo alti nonostante comunque abbiamo tutto a posto, tutti i documenti in regola però c'è chi si lamenta e questo secondo me va anche a discapito diciamo suo perché qui bisogna aiutarsi, già il periodo è difficile e penso che bisogna creare un'alleanza per lavorare tutti insieme meglio però purtroppo non è così e adesso speriamo insomma che vada meglio. Ed ora siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi ricordiamo che le potete mandare al nostro numero di whatsapp 370-366-7210 in queste immagini che ci ha inviato Gabriele, nostro telespettatore che chiaramente ringraziamo, viene documentato un parcheggio selvaggio di biciclette nella corsia della ciclabile dopo il sottopassaggio di via De Gasperi una situazione paradossale vista la vicina rastrelliera lasciata quasi vuota e una situazione potenzialmente pericolosa per i ciclisti in transito Aspettando il film culto Flashdance che inaugurerà sabato la 59esima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro domani il festival avrà un venerdì di pre-apertura dedicato a due proiezioni speciali alle ore 17 al Cinema Solaris andrà in onda Sulla mia pelle di Alessio Cremonini il film racconta l'ultima settimana di Stefano Cucchi interpretato da Alessandro Borghi Ilaria Cucchi, senatrice e sorella di Stefano, sarà presente proprio al Cinema Solaris Alle 21.30 invece in Piazza del Popolo andrà in scena Quando? L'ultimo film di Walter Veltroni con Neri Marco Re che si risveglia dal coma dopo 31 anni e trova un'altra Italia politicamente e umanamente cambiata Veltroni sarà presente per introdurre la serata Domenica 19 giugno vi ricordiamo che sarà a Pesaro stradomenica con tante proposte fra shopping e cultura dalle 8 alle 13 l'appuntamento è con il consueto mercato cittadino in Piazzale Carducci e le vie limitrofe cambio di location invece per il mercato dell'antiquariato che per tutta la giornata si sposterà in Piazzale Matteotti anziché Piazza del Popolo che sarà occupata chiaramente dalla mostra del nuovo cinema di Pesaro e poi naturalmente l'apertura di tutti i luoghi della cultura cittadina quindi saranno aperti musei civici la Sonosfera, Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini, Museo Oliveriano, Museo Diocesano l'area archeologica di Via dell'Abbondanza Ed ora parliamo di un volto che conoscete della nostra emittente stiamo parlando di Nicoletta Tagliabracci saggista e studiosa di enogastronomia diventata da poco sommelier che lunedì 19 giugno presenterà il suo nuovo libro Io sono Aura all'interno della rassegna Calici di Parole organizzata da Confcommercio Marche Nord e associazione italiana Sommelier delegazione di Pesaro alle ore 18 nella sede di Pesaro di Confcommercio il volume di Nicoletta ci riporterà gli usi e costumi del 1475 e agli sfarzosi matrimoni di Elisabetta da Montefeltro con Roberto Malatesta e anche Camilla d'Aragona con Costanzo Sforza Ed ora cambiamo argomento dopo Fano, Senigallia e Marotta i centri estivi sportivi Jump dallo scorso anno sono presenti anche a Pesaro un felice esperimento che da questi giorni ha cominciato a replicarsi e allora sono tante le attività per i bambini di scuole elementari e medie che ci vengono illustrate in questa prossima intervista dal responsabile organizzativo Jacopo Barattini Questa settimana per il secondo anno consecutivo i centri estivi Jump si sono allargati su Pesaro al campo scuola di via Respighi un esperimento lo scorso anno una piacevole conferma quest'anno Sì, una piacevole conferma dall'anno scorso grazie alla vittoria del bando in coprogettazione con la T41B per la gestione di 20 impianti sportivi nel comune di Pesaro tra impianti monovalenti o polivalenti sia al chiuso che all'aperto siamo riusciti a riattivare il secondo anno di centri estivi qui a Pesaro una spida partita l'anno scorso che già ha dato dei buoni risultati e quest'anno abbiamo voluto provare a riattivarci quindi dal 12 di giugno siamo attivi anche quest'anno con il centro estivo quindi con i centri estivi Jump qui sul territorio di Pesaro le iscrizioni sono sempre attive siamo già arrivati a più di 50 iscritti e andremo avanti fino all'8 settembre quindi ci aspettiamo veramente tantissimi bambini che abbiano voglia di giocare e provare tutti gli sport e soprattutto non mancheranno le uscite quindi vi aspettiamo veramente in tanti Ecco, ricordiamo in particolare a che fascia d'età si riferisce il centro sportivo? Il centro estivo sportivo di Pesaro si riferisce alla fascia di età delle elementari e delle medie quindi accogliamo i bambini dai 6 fino ai 14 anni chiaramente verranno poi divisi per gruppi e per competenze sportive e quindi andremo poi a creare o uno o più gruppi a seconda del numero dei bambini partecipanti Attività ludiche, attività motore che in qualche modo danno anche uno spunto verso anche un pensiero verso un tipo di attività sportiva che questi ragazzi possono intraprendere Sì, l'idea del centro estivo nato ormai quasi 18 anni fa su Fano era proprio quello cioè quello di dare più possibilità sportive più possibilità di scelta per poter arrivare poi a settembre nel fare una scelta consapevole di attività sportiva per poter andare poi a scegliere uno sport che in un modo o nell'altro incarnasse di più o piacesse nel miglior modo al bambino quindi con noi hanno la possibilità di provare in maniera totalmente libera e senza vincoli della vittoria o della competizione qualsiasi disciplina sportiva Al di là di quella che è la ricca offerta delle camposcuola di Vire Spighi poi ci sono tante attività fuori sede una molto particolare è il Camp Natura Avventura Sì, siamo veramente felici di poter riconfermare il Camp Natura Avventura che ormai da anni segue le stati dei centri Estivi Jump anche quest'anno siamo riusciti a riconfermarlo in due date quindi la prima data per bambini dai 7 fino ai 10 anni dal 7 al 9 luglio e dal 9 al 14 luglio per bambini dagli 11 fino ai 15 anni è un'esperienza che si svolge a Carpegna è un'esperienza che si svolge in totale autonomia da parte dei bambini perché verranno via direttamente con gli istruttori del centro estivo quindi dei centri Estivi Jump ed è un'esperienza che al suo interno racchiude uscite come la piscina al maneggio, il Carpegna Park e tantissime esperienze volte a migliorare la leadership prima di tutto del bambino ma anche la possibilità di gestire e di scoprire l'autonomia da parte del bimbo quindi un evento che negli anni ha preso veramente molto molto piede di cui siamo orgogliosi e concludiamo con lo sport vi ricordiamo che domani sera alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di A come Angels il programma targato Rossini TV dedicato al football americano e ai ranocchi Angels dopo il primo posto nel girone la squadra pesarese si gioca proprio questa domenica la semifinale playoff per la Prodo in serie a due una partita particolarmente attesa come ci spiegano coach Angeloni e il capitano Pier Maria Domenica 18 giugno alle 16 scocca l'ora dei playoff di football americano con i ranocchi Angels Pesaro che si giocano sul terreno amico del campo a scuola di Via Respighi la semifinale di South Air Conference per tentare la scalata alla Serie A2 dopo un cammino da 5 vittorie e una sconfitta gli Angels se la vedranno con i pretoriani Roma è già da un po' che pensiamo a questa partita cioè dall'ultima nella stagione regolare in cui abbiamo conquistato il primo posto nel girone quindi sapevamo di avere una settimana in più per noi preziosissima per recuperare gli infortunati e preparare bene questa partita come si sa la partita playoff o si vince o si va a casa quindi tutto ci giochiamo in questa partita e ci prepariamo sia in attacco che in difesa sia nel tenere alto il livello atletico dei giocatori che quello tecnico ma anche e soprattutto nello scouting della difesa dell'attacco avversario abbiamo visto i filmati diciamo che li conosciamo già molti dei loro giocatori li conosciamo dal passato ma per questa soprattutto nel CIF9 ogni anno sono squadre che cambiano tanto anche noi siamo cambiati tanto dall'anno scorso e quindi studiandoci i filmati e provando sul campo prepariamo al meglio questa partita Gli Angels arrivano in semifinale con un gruppo di giocatori che ha inannellato prestazioni e risultati trascinati da entusiasmo ma anche dall'esperienza di punti di riferimento come Filippo Pier Maria in procinto di chiudere la carriera per raggiunti limiti d'età Gli ultimi anni sono a mille anche perché oltre a essere la mia ultima partita in casa potrebbe essere anche l'ultima partita della mia carriera se dovessimo perdere la partita la stiamo preparando molto bene abbiamo studiato i nostri avversari i pretoriani Roma abbiamo buttato giù una difesa fatta apposta per il loro attacco e quindi ci stiamo allenando bene e tanti quindi il morale è molto alto e siamo fiduciosi Davvero complimenti ai Ranocchi Angels e allora mi raccomando non perdetevi la puntata di domani sera alle 21.20 su Rossini TV e invece questa sera restate ancora con noi perché alle 21.20 in prima serata vi racconteremo quella che è stata la 25esima edizione del premio Rotondi quindi non perdetevi questo appuntamento ricordatevi sul canale 80 alle 21.20 mentre domani torna la consueta rassegna stampa del mattino questa settimana non mi avete visto avete visto Antonio Astuti ma da martedì tornerò con voi intanto non perdetevi quella di domani venerdì con voi ci sarà Daniele Sacchi in diretta alle 7.20 grazie come sempre per averci seguito adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni e mi raccomando scaricate la nostra applicazione buona serata grazie a tutti grazie a tutti